In Italia, paese col più basso tasso di matrimoni dell'Unione Europea, pari a 3 per mille abitanti, i pochi che vogliono sposarsi con relativo ricevimento possono tornare a farlo, con le regole e le limitazioni imposte dal Covid. Dal 15 giugno gli invitati al giorno più bello dovranno essere in possesso del Green Pass, e cioè avere il certificato di avvenuta vaccinazione, quello di guarigione o un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la cerimonia. Consigliati soprattutto i ricevimenti all'aperto, un piccolo percorso ad ostacoli che non scoraggia i più motivati. Abbiamo dovuto rinviare più volte, trovare ogni volta soluzioni diverse e sperare fino all'ultimo che non cambiasse nulla. I nostri invitati erano circa 300 e ovviamente qui era impossibile, abbiamo trovato un altro posto bellissimo e per forza di cose poi il 9 marzo hanno chiuso tutto quanto a causa del Covid, abbiamo dovuto rinviare quindi oltre un anno. Per il settore matrimoni i danni del Covid sono stati devastanti. In un mercato che in Italia rappresenta un volume d'affari pari a oltre 65 miliardi, considerato l'indotto, le perdite oscillano dall'85% al 100% del fatturato rispetto al pre-pandemia.